Regala, dona al mondo quest'opera, perché ringraziamo Cina per il grande gioco. Grazie. Questo quadro è nato proprio per caso. Conoscevo già ancora la storia dei messaggeri del mare. Non è niente casuale. Però quel giornalino mi sono messa lì. Poi il giorno prima che avevo letto delle isole e ho detto che non si può, non è giusto. Mi sono messa lì a dipingere. Però non sapevo neanche tanto cosa veniva fuori e cosa stanno facendo. Poi piano piano mi è venuta la prima figura del primo del filo. Allora ho detto questo, è per loro. E così è nato questo quadro che si intitola Why. Perché? Perché questa crudetà serve con qualsiasi essere vivente di questo pianeta. Sono molto felice con Mossa e vi dono questo quadro. Grazie Lucia. Grazie Lucia. Grazie. Andremo lì. Grazie a tutti. Grazie. Grazie perché è più sano che non è due naturalmente. Noi siamo solamente un mezzo per arrivare al cuore, diciamo, di quelle persone che sicuramente hanno la bellezza nel cuore. Basta saperla ricercare. Quindi lanciamo una luce. grazie, grazie